Eminenza, Papa Francesco visita il Parlamento europeo 26 anni dopo San Giovanni Paolo II, che aveva indicato come campi di missione per l'Unione Europea la custodia e recreato, la solidarietà verso migranti e rifugiati e la ricostituzione di una visione integrale dell'uomo. Sono temi ancora attuali? Ma direi che sono temi di grandissima attualità, forse potremmo aggiungere di drammatica attualità e ancora di più parlare di emergenze, di autentiche emergenze, ecco, come ha sottolineato dal resto più volte lo stesso Papa Francesco, ecco, questi temi della custodia del creato, declinato più laicamente, della difesa dell'ambiente, ecco, è il tema della solidarietà nei confronti della gente che cerca, diciamo, nuove opportunità, ecco, fuori dal proprio paese, è un tema che ricorre spesso nei suoi discorsi, soprattutto questo della solidarietà, che non è soltanto, diciamo, uno dei valori dell'Europa unita, ma direi che è l'obiettivo stesso, ecco, dell'esistenza dell'Europa, è certamente una delle sue dimensioni fondamentali. E io direi che la giusta prospettiva, ecco, anche per affrontare e per trattare questi temi, è quella di questa visione integrale dell'uomo, che è il terzo aspetto che lei richiamava nella visione e nella proposta di Giovanni Paolo II, un uomo considerato in tutte le sue dimensioni, quindi compresa anche la dimensione spirituale e la dimensione trascendente, che è attrezzato proprio per questa integralità di approccio, anche a dare una risposta adeguata e costruttiva a queste sfide che si trova ad affrontare. I sondaggi dicono che solo il 30% degli europei ha una visione positiva dell'Unione, anche per effetto, della crisi economica. L'idea di unità europea ha perso il suo smalto. Come può l'Europa riscoprire il senso della sua identità? Anche questa è una grande sfida. Una grande sfida, io credo, che la sfida un po' si articola nel senso che l'Europa, molte volte, è percepita dalla gente, dalla gente comune, come una realtà molto, molto lontana, una realtà molto distante, è una realtà burocratica che non si interessa degli effettivi problemi che vive ogni giorno la gente. Quindi questa distanza. E d'altra parte, ecco, si articola anche un po' questa crisi dell'attuale situazione, una perdita di speranza, una perdita di fiducia, che l'Europa possa dare risposta ai tanti problemi che il continente si trova a vivere. Ecco, sappiamo per esempio che a differenza di qualche decina di anni fa è caduto proprio, diciamo, anche questo ottimismo verso il futuro e verso la capacità di dare risposte. Probabilmente, io penso, non è più un dato comunemente accettato, diciamo, ciò che è stato all'origine dell'Europa, i valori che sono stati all'origine dell'Europa, non è più un presupposto comune che permetta appunto di affrontare insieme anche i problemi, le difficoltà e le sfide. Per questo io credo che è molto importante, ecco, svolgere un'opera di formazione e di educazione, soprattutto nei confronti dei giovani, per cercare di mostrare, ecco, concretamente la validità del progetto europeo, che il progetto europeo, se vissuto secondo lo spirito e i valori dei padri fondatori che gli hanno dato vita, può essere ancora in grado oggi, ecco, di rispondere alle sfide dell'Europa attuale e di dare risposte concrete alla gente. Credo questa è una dimensione fondamentale, accanto anche, e ritorno un po' alla prima domanda, a questa spiritualità che io direi appunto, identificherei con questa visione integrale dell'uomo, non ridotto a una sola dimensione, ma preso nell'interezza dei suoi aspetti, ecco, delle sue dimensioni. L'Europa è stanca, dobbiamo aiutarla a ringiovanire, ha detto Papa Francesco alla Sant'Egidio il 15 giugno scorso, ricordando anche che ci sono 75 milioni di giovani europei che non lavorano e non studiano. Coniugare sicurezza e solidarietà può essere la strada giusta? Ma io credo di sì, che questa è la strada che si deve percorrere. Ecco, oggi purtroppo il grande problema dell'Europa è proprio la disoccupazione, la disoccupazione e la mancanza di lavoro da parte soprattutto di tanti giovani, per cui, diciamo, aumenta l'esclusione sociale. Invece una solidarietà e un'attenzione a questa categoria di persone, come a tante altre categorie di persone, ecco, appunto, pensiamo ai migranti, pensiamo alle madri che si trovano sole a dover educare i figli, pensiamo agli anziani, pensiamo ai disabili, eccetera, tutte queste categorie di persone, un'attenzione particolare a loro potrà essere, diciamo, un cammino sicuro per ridare vigore al progetto dell'Europa, perché, ripeto, l'Europa è nata proprio per questo, è nata per assicurare la pace e per assicurare, diciamo, anche un'attenzione particolare nei confronti delle categorie più svantaggiate. Le 12 stelle della bandiera europea richiamano le stelle della corona della Vergine Maria. Queste sono le radici dell'Europa che purtroppo sono messe spesso in discussione. Lei crede che si stia cercando di ricominciare a rivalutarle? Ma io credo, io credo di sì. Se guardiamo il Trattato di Lisbona, lì nel primo articolo, mi pare, sono richiamati una serie di valori che sono fondamentalmente valori cristiani, che hanno le loro radici nella storia e, diciamo, nell'apporto che il cristianesimo ha dato al nostro continente, a partire dalla dignità della persona umana, il tema della libertà, il tema della democrazia, il tema dell'uguaglianza, il tema dello Stato di diritto, il tema del rispetto dei diritti, dei diritti umani. Ecco, sono tutti valori che nascono dall'humus del cristianesimo e quindi, se si cerca di viverli, ecco, e di metterli in esecuzione, di realizzarli, io credo che si sta dando vigore alle stesse radici cristiane dell'Europa. Senza dimenticare, e qui faccio un riferimento a una cosa che mi sembra importante, è il contributo specifico che i cristiani devono dare, ecco, anche alla costruzione europea. Credo che noi cristiani dobbiamo, noi cattolici in particolare, dobbiamo essere convinti, ecco, della bontà, della validità di questo progetto. E portare il nostro contributo in due sensi, mi pare. Da una parte, da una parte, diciamo, dare un cuore all'Europa, ecco, dare un'anima all'Europa, quello di cui si lamenta spesso è proprio questa mancanza di anima. Credo che questo è un contributo specifico che possiamo dare noi. E dall'altra parte, mi richiamerei un concetto molto caro al Papa Benedetto, che è quello di allargare gli spazi della ragione, no? Ecco, tra fede e ragione non c'è opposizione, quindi allargare gli spazi della ragione come spazi di incontro e di collaborazione con tutti per la costruzione di questa Europa che tutti desideriamo e che tutti sogniamo. Il Papa visiterà due istituzioni diverse, una prettamente politica come il Parlamento europeo e un'organizzazione intergovernativa che raccoglie rappresentanti di 47 Stati come il Consiglio d'Europa. Anche i due discorsi avranno accenti diversi? Sì, immagino di sì. Sono organismi che hanno differenti aspetti, ecco, hanno differenti dimensioni. Il Papa certamente terrà conto delle caratteristiche di ognuno di questi due organismi, ma nello stesso tempo anche sottolineerà quello che è comune e lo sforzo che entrambi devono mettere soprattutto per quanto riguarda la pace e la difesa dei diritti umani nella costruzione dell'Europa. Grazie a tutti.